Sì, spirali ovunque. Io non avevo mai pensato alle spirali come un qualcosa di... potenzialmente inquietante o pericoloso, cioè... Io... io fossi in Shuichi... me ne sarei andato da qualche mese. Diciamo che sembra un po' pazzerello. Quella ragazza è una spirale. Però fa ridere, dai, eh. Giusto un po' di lag. Questo è assolutamente un horror, come si deve. Mi sono state riferite delle cose, in particolare che c'è stato un lieve calo. No! La violenza! No! Yoriko! No! No! E no! La spirale! E insomma! Che cozzo sta facendo? Capisco. No, la stanno strozzando. Ha... ha senso. Bisogna tranquillizzare i capelli. Ha senso. Attenzione, il combattimento. Capelli contro capelli. Ma stanno tipo driftando sulla... sulla sabbia? Ma perché? Non c'era bisogno di fare questa cosa per stare insieme. Cioè, raga, fateci caso. Mentre cammina, torna indietro. Guardatela, guardatela. Torna indietro. Ma che cazzo? Non l'avevo mai vista una cosa del genere. Molto bella. Va bene. Vabbè, tutto nella norma. Direi tutto perfettamente nella norma. Vogliamo andarcene o rimaniamo qua? Rimaniamo qua. Oh, è uno. Che fa questo? Ma scusatevi. No, ma è finito così. No, vabbè, ma è incredibile. Così, l'hanno... sbattuti fuori. Eh, vabbè. Da casa loro. No! Eh, no! Gli ha mandato un tornado, così. Oh! Ah, raga, ma cosa sto vedendo, da raga? Ma che cos'è sta cosa? Ma no! Ma no! Ma no! Ma stiamo scherzando, dai. Si soffiano a vicenda. Ma che fa? Ma che fa questo? Oh, madonna. Quante cazzo di casi ha costruito quello? Vabbè, anzi che li fanno passare senza problemi. No! 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 Ma cosa fa? Absolute cinema. Blue Lock ha solo che da imparare da queste cose. Picco assoluto, ricomincia la storia. È una spirale, un loop. Vabbè. Vabbè.